bella ragazzi, questo è un episodio di dead for adventure la miglia traps esatto siamo ottimo qui che siamo dentro alla non ha un tempio diciamo all'ingresso della città che ci condurà axibalba che qua c'è del sangue mi scusi e direi di proseguire no no a parte che qua si vede ehi ok ok trovo delle munizioni aspetta ho visto qualcosa ah c'è un tesoro lì che cazzo cazzo spavento aspetta no questi battano aspetta ah ecco vedi fermo ce ne sono altri ok uno due grande ce ne sono ancora la musica c'è ancora è infatti e vacca puttana quello scudo adesso ci sono aspetta facciamole ritornare qua vacca ma quanto sei lento però sbrigati ok ok e che cos'è e che cos'è hold mmb e uno ok lì c'è un uno ok ah così e non è and now we're going no let me guess deeper and deeper it's locked sì che devo aspetta qui c'è il tesoro e tutti bisogna trovarli no ma fammi vedere 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 e poi in quella stanza 1 2 3 4 5 6 ma tu sei ma tu sei anche pazzo malato allora qui bisogna eh ho capito bisogna trovare il quarto elemento il quattro il quattro il quattro il coso lì e quel coso lì è questo però non me lo fa prendere perché o ti puoi per agire non mi fa niente non saprei il suo e basta aspetta ma qua c'è qualcosa ah capito sono questi cancari si ho capito adesso se abbiamo sbagliato allora il primo è lì la faccia questa qua e 1 poi c'è il 2 che è questo giusto? assolutamente no e la eeeh la palla che è questa e alla fine e poi alla fine c'è questo ok con molta calma perché noi guarda ok lì si va avanti però aspetta che io voglio vedere qua prima eeeh no io prefero ecco infatti porco ok e qua c'è il tesoro grazie aspetta che cazzo sono ste cose bello no 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 aspetta 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 non posso non口 buttare ma chi cazzo è via 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 usa sto coso BAMMA Sì però c'è bisogno di questo E BAMMA Ricarica sto coso Occhio 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 E che cos'è? Ridami questo grazie A posto a posto a posto E Destruge quel coso Ok Mi posso prendere lo scudo? No così tanto per no Sarebbe stato troppo figo Andare in giro con lo scudo E Ma che cazzo Ma passano di sopra Ma passano di sopra Che cazzo è E calma un po' Mi Porco Aia Occhio 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 Aia Eia ecco Una palata sulle gengive Una palata sulle gengive What on earth is that? Guarda qua il bastardo Eh no non è poi passare di qua Aia Pena Aspetta 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 Ma che Ma non è vero Ma 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 Mai Mela Nella vita Questa te la sei sognata Ma che cazzo Su Su E c'hai con I soliti tumori invisibili Tu Dai 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 ma guarda che cazzo è? ho capito che ti prendi una cosa sulle gg non mi sembra il caso allora fai così tache 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 oh e che cos'è mille ore cazzo cazzo è ahi qui cazzo di cose che girano oh se abbiamo fatto una bella e bel volo se esproca su mille ore che 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 vaca puttana aspetta 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 e vabbè ma affanculo ma chi è che mi sta urca puttana ah ecco perchè aspetta eh così è più facile cazzo sono finite le munizioni porca di quella puttana troia vai venite vi sfido a venire qua questo pum 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 no se sparo sulla mano insomma è un po' difficile che muoia pum 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 eh che cazzo e venite 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 su ah 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 quella lì ha riposto pulce a porco vai così ragazzi uno alla volta mi raccomando ma 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 adesso adesso puoi ricaricare eh anche l'altra grazie facciamo facciamo le armi a kimbo ok cosa devo fare lì si si eh allora ci sono più stanze dove devo andare proviamo di qua se non ci sono i super salti ok no qua si si va avanti quindi aspetta lì ci sono lì c'era fare il salto quindi lì si va avanti però proviamo per di qua solito in queste vie no c'è solo un fucile questo qua non me ne faccio niente basta andiamo non ci sono altre stanze altre vie no sbloccate no ho messo solo queste ok andiamo oppa eeeh ah ma noi stessi stiamo qui eh ma che cazzo oh ah perché c'hanno le pende forse per quello boh non lo so ok questo ci succede qualcosa no ah non ho visto c'è un tesoro sì che c'è un tesoro da quella parte eh vaffanculo non lo posso più prendere vabbè dove dove che cazzo dovevo guardarlo prima la bussola vabbè oppure qui no per nulla qua aspetta uno e due ok ok poi anche a basso basso un senso intuitivo tenevo sempre la bussola portata di mano non si son mai e questa roba cos'è se ma sei anche un pezzo di merda però eh dillo ho capito ma no qua non c'è assolutamente niente aspetta fammi capire inquietante allora qui qui ci sono dei simboli ok per scorrere insomma tipo eh ma the ceiling the ceiling quindi mi sta dicendo che ci sono dei simboli qui da qualche parte io non ne vedo ah questo qua eh coso con pro un proboscide eh ok abbiamo fatto quindi anche qua ah lassù eeeh coso un coso dov'è? che è una roba lì in su ma siiii porco eh grazie ah c'è solo questo? e quindi? eeeh scusa e adesso? ah devo sparare lì si ok eeeh oppala aspetta qui c'è qualcosa c'è il cazzo c'era il coso qua aspetta adesso lo piglio oppala si salta no cazzo non c'era il coso c'era aspetta no questa me la posso sbloccare posso sbloccarmi anche questi eh recall cosa significa? ah il 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 rapteo di fuoco oppure facciamo questo ok e poi cosa facciamo? eeeh reload o no dire questo ah possiamo continuare e vabbè questi no ancora eeeh ok abbiamo incrementato il ratio di fuoco eeeh la luce vuoi salvare? si salva ce l'ha salvati? si ok no che cazzo stai facendo? no ma sai anche pezzo di merda eh ma che roba va che casino sento quella roba la fai oh chi è? eh ah l'altro e vabbè ma che casino è? aspetta dove cazzo devo andare? vabbè ah di qua aspetta che qua c'è eeeh ma eeeh ma ma io non ho paruto ci sono un po' il ma di il Ok, stiamo... ok Stiamo andando più bene del... Eh vabbè cos'è sta roba Ma che è una roba horror adesso sta cosa Ma che cazzo è una roba horror? Scusate Non so qua non fa nulla, ok Ma porca puttana Sta, state zitto Dove devo andare? Aspetta, noi andiamo Porco Ma sono sicuro che è una donna sta Sì Ma che cazzo è? Ma manco Doom ti fa sti versi, porca puttana C'è che io ci ho giocato a Doom L'u... Lucis pente Cioè non ne fa paura Questo qui c'è Che cazzo è? E basta Va ti spacco le mie denti Che continua Cioè sto coso No qua stiamo andando più... Ma che cazzo? Perché c'è della luce così? Eeeh... Alla salute Aia Porca puttana E dai eh Vai, 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 vai Orco Oh Mi stanno anche affienendo le munizioni Porca puttana Aia Aia Ma vaffanculo Ce ne sono altri? A geticare dalla musica? Sì Però non si sa dove sono No Ah eccolo dov'è E sto coso? Aspetta ma serve con qualcosa? No non serve a niente Mi sa di no eh No mi sa che questa cosa serviva O no Aspetta Per qualcosa Eeeh O era per... Aspetta Non è che forse devo fare una roba Cioè di premere Aspetta Cioè di premere di illuminare qualcosa Aspetta ma c'è qualcosa Ma ci sono delle stanze qua No Bloccato Eeeh Mi sembra che ce n'era anche un'altra in cui La potevo spostare Questa qui No Non è la si può spostare Ok niente Andiamo avanti Tesori Assolutamente no Ok E' quello Eeeh Porco Che cazzo è Ho preso più spaventi qua che in chissà dove Ma sai come hai fatto a leggere Interessante Prendi Ma tu sei già morto? Si Si Siete stranando delle rafiche Tu non fai niente Si morto Perchè c'è una roba rossa lì? Porco Parte di luce Ok Questa cosa? Ah Ok Così a caso Ho due monete E un teschio Ora direi Di posizionare Ok qua il teschio E qui Eeeh Cos'è? Le monete Uno C'è il corsore Che lagga Due Però mi sa che non basta O si? O No Non basta Forse ci manca ancora qualcosa Ehm Cioè qua c'è un tesoro Ta Una colpa nelle palle Perchè si Oh guarda dove era Vaffanculo Ah eeeh non mi fregate più Eeeh no non mi fregate più C'è un altro tesoro Prendi Eeeh Ok ne abbiamo tre addirittura adesso Ok Eeeh che cos'è? Prendi Che cazzo Eh Abbiamo qualche problema A prendere le monete ragazzi Ok Ok Sì, prosegue. Ciao. Eeeh. Le stesse trappole di Skyrim uguali identiche. Tu dici? Sì, poi le cose che trapassano la cosa non è c'è manco tipo boom. Una rotaia in cui... Forse qua sotto c'è qualcosa, va a vedere? E infatti, guarda! Cazzo... Vaffan... Vorrei vedere di aspettare... Ah, guarda come ti ho allontanato! Totà! Ok, eccolo. Prende. Ok. Strada del guerriero. C'è qualcos'altro? Pare di no. Eeeh... Dov'è l'altra? Ok, bravo. Ok, mi sa che dovremmo... Tac. Uno. Due. Uno. Due. Uno. Due. Uno. Due. Uno. Due. Uno. Due. Uno. Tecnicamente quando passo io si ferma tutto e lei passa con molta tranquillità. Ma mi sembra giusto ragazzi, ma è giusto. Anzi, gusto direi. Anche gusto. E qui però non posso fare niente. Ancora due tesori e devo prendere per sbloccare un altro... Un'altra abilità. Sì, tu... Che c... Eeeh... C'è un tesoro. E... E qui ci sono dei cose. Aspetta, forse ho capito. Così? Uno. Due. Ehm... Sì. Quindi? Ah. Non l'ho manco visto questo. Eh ma che cazzo è? Aspetta, forse devo andare di sopra perché qua qua non ne penso sia la cosa più tattica da fare. Extraordinario? Eh. Uno. Cinque dieci. Tre sei dieci. Che è una frazione. Cazzo è? Questo? Aia. Cioè così a caso. Aspetta ma qui c'è qualcosa... Ma che cazzo? Perché ci sono stesse cose mesi così? Non mi s... Ma io... Uno. Cinque. Allora questo... Questo vale... Questi valgono uno. Questo vale cinque. E... E... Si. Si. La... L'abbiamo capito. Aspetta ma questo non... Mh... Oh. No. Quella lì non si accende. Ah non si accende quella cosa. Aspetta. Orco. Aspetta ridami. Accenditi. Accenditi. Ti... Ti ordino di accenderti. Ma che è baggata. Oh. Mi sa che sono fini delle batterie ragazzi. Si. No eh. Math. I hate math. Io odio la matematica. Eh sai. Ma come cazzo li tieni le pistole? Cazzo è. Eh vabbè facciamolo. Allora. Uno. Cinque. Uno. Cinque. Uno. Uno. C'è. Ma mi spieghi l'emotivo. Uno. 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 Cinque. Uno. Fa. Fa. Sette. Vabbè sai perchè è il. Il sette è il. È il numero di ogni cosa. Mi sembra. Mi sembra. Anche giusto. Anzi gusto. Che cazzo c'è qua? Brombrombrombrombrombrombrombrombrombrombrom. Brombrombrombrombrombrombrom. Di cose qua. C'ho tre? Ok, mi ripiglio un attimo Vediamo un po' qua Cosa ci riserva Oee Sì, ma giustamente io forrei Bissimo, vado con Con l'arma che Non ha più munizioni, ma mi sembra pure giusto Ehi, che cazzo è Ah, posso? Sì, ok Sì, che è sta roba adesso Cioè, tu mi stai Questo coso Allora, tre E vabbè, che è un puzzle Va bene, ma lo faremo nel prossimo episodio Quindi, ragazzi, direi che per questo Episodio di Deadfall Adventure è tutto Vi ricordo che se non siete ancora iscritti Cane di iscrivervi, se volete un'energia Andate sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi Mettere un bel pulincione Su se vi è tutto l'episodio, mi raccomando anche di dare La vostra nei commenti E noi ci sentiamo con un nuovo episodio Stai zitta e noi ci sentiamo con un nuovo Prossimo episodio di Deadfall Adventures Bene